Bello, veramente bello, vero? Sì, ma io di balletto non ci capisco molto. Era ora che ti decedessi, mi fa male, sai? No, hai ragione, è solo che sono un ingegnere senza possibilità di redenzione. Ma no, non è vero. No, è così, fidati. Sei tu che mi sopravvaluti. Anche mia moglie alla fine si era resa conto. Ormai ti conosco. Quando parlo di tua moglie è perché c'è qualcosa che ti preoccupa. È per via di Valeri? No. Cioè sì, è che sono dieci giorni che non torno a casa a dormire. Non la vuoi parlare? No, almeno non l'ora. Come vuoi. Comunque, il balletto era veramente bello. Sì, forse.